Una piacevole mattinata nel Dipartimento Materno-Infantile dell'Azienda Ospedaliera Università Rasenese grazie alla visita, con calata dal tetto dell'ospedale, dei supereroi di edilizia acrobatica che hanno portato doni e sorrisi a tutti i bambini ricoverati e alle loro famiglie. Una sorpresa graditissima che ha letato le ore trascorse alla Policlinica Santa Maria alle Scotte sia dei piccoli degenti che degli stessi professionisti di edilizia acrobatica, azienda leader in Italia nel settore dell'edilizia in doppia fune di sicurezza. In questi giorni ha lavoro proprio all'ospedale di Siena per le attività di manutenzione all'8-1. Il commento della Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, Valtere Giovannini. Una giornata particolare anche per il nostro ospedale perché questa edilizia acrobatica per noi è una risorsa importante per anche l'aspetto esteriore del nostro ospedale. È una tecnica che è in atto ormai in molti paesi europei, una tecnica avanzatissima per strutture di questa complessità. È una tecnologia che ci consente procedure molto più rapide e anche meno costose, in particolar modo sul livello delle facciate dei grandi edifici come il nostro. Oggi hanno dato una dimostrazione di sensibilità e di affetto anche per i nostri bambini, facendo vedere come un lavoro può essere anche gioioso, può essere un momento di allegria per il nostro ospedale. Questa giornata che regaliamo volentieri ai nostri bambini e in particolar modo al nostro ospedale. L'idea e la genesi dell'iniziativa dalle parole di Marco Cerullo di Edilizia Acrobatica. Questo progetto nasce dalla nostra fondazione che vuole condividere tutti i nostri successi con questi bambini e portare qualcosa di diverso e laddove c'è meno fortuna di noi siamo tutti uniti per portare questo progetto in tutta Italia. È un evento che facciamo in tutte le città italiane, negli ospedali che sono favoribili di accoglierci e spero che grazie a questo servizio possiate diffondere la nostra iniziativa in tutto il territorio italiano. Come avete visto i nostri ragazzi si sono calati sulle corde. È appunto un'azienda che ha adottato in Italia questa tecnica di lavoro su corda, su doppia corda, dove appunto i ragazzi lavorano in totale sicurezza e si calano su una corda principale e una di servizio con molta semplicità e molta rapidità anche e perciò riusciamo a raggiungere tutti i posti anche più difficili con estrema semplicità e anche divertimento.